Due torri nel caos. La formazione di Piraino sta attraversando il momento peggiore della sua lunga storia sportiva, non solo per le vicissitudini in campo che la vedono relegata al penultimo posto dopo otto giornate di Serie D con appena due punti, oltre i tre già scontati di penalizzazione, ma soprattutto per le problematiche di carattere societario. Il sodalizio biancorosso, a quanto pare, non sarebbe in grado di proseguire economicamente la stagione, essendo ancora in attesa che si concretizzino parecchie promesse di sostegno, tra cui quelle dell'amministrazione comunale avanzate nel precampionato. La squadra negli ultimi due giorni non si è allenata e salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimora non si recherà a Sarno per la trasferta della non aggiornata. Gravi le pendenze della società nei confronti di parecchi giocatori che attendono risposte sicure prima di tornare a indossare gli scarpini. Dal 30 luglio a oggi, infatti, non è stato corrisposto alcun rimborso ai calciatori che in questi giorni si sono confrontati ripetutamente tra riunioni e frenetici incontri con i dirigenti. Da quello che trapela, la società avrebbe atteso in vano un confronto soprattutto con i rappresentanti del comune che dal canto loro avevano promesso la corrisponzione del contributo in due tranche, la prima ridosso dell'estate, l'altra con scadenza al 30 settembre. Nulla di tutto ciò è stato però rispettato. Voci di corridoio parlano di imminenti dimissioni dello stesso tecnico Antonio Venuto che ha sempre continuato a lottare e lavorare in campo credendo nelle potenzialità del suo gruppo. Oggi più che mai però il problema è tutt'altro che sportivo e a pochi mesi di distanza si rischia di tornare a vivere l'incresciosa esperienza già attraversata dall'Orlandina nel caso in cui il Due Torri decidesse di proseguire pro forma il campionato schierando in campo i ragazzini all'unico scopo di evitare la radiazione e provare a mantenere quantomeno il titolo di eccellenza per la prossima stagione.